salve ragazzi salve ragazze bentornati sul canale bentornati al vostro faro89 e oggi è arrivato il fatidico giorno del risultato del giveaway per chi si è perso comunque ce ne saranno altri non vi preoccupate e oggi quindi quando finiremo di fare l'estrazione ci sarà un nuovo giveaway quindi restate collegati fino alla fine per chi non vincerà ci sarà sempre una nuova possibilità allora come potete vedere ci sono delle novità come per esempio un secondo posto che ovviamente non avevo detto perché ho voluto fare una sorpresa quindi questo secondo posto sarà semplicemente per chi è stato diciamo un po più fedele al canale e i skifiddle questi poche sono qui presenti ovviamente non sono messi in palio ma sono semplicemente per abbellire perché sono quelli che abbiamo utilizzato per fare la challenge se vi siete persi il video ovviamente qui vi lascio in descrizione quindi nell'info box il video che abbiamo fatto per il secondo posto quindi lo vedremo fra un pochettino io vi faccio vedere cosa ho messo in palio che è praticamente questo set da scuola dei baymax o comunque big hero 6 che ha la gomma la matita lo scotch e il temperino una cosa in più che ho voluto fare quindi regalerò al secondo posto ragazzi una cosa importantissima per quanto riguarda il giveaway il prossimo giveaway che ora a breve farò e farò vedere anche cosa vincerete una cosa importante ferirei che mi seguisse su instagram perché seguendomi su instagram io già so chi siete può capitare come è capitato anche ad altri canali che facendo vincere una determinata persona e non avendola per esempio su instagram o su facebook perché a volte ovviamente sappiamo che i nickname cambiano si presentano delle persone false che purtroppo vogliono il diciamo premio siccome io voglio essere una persona comunque onesta e voglio dare il premio a chi se l'è meritato a chi è diciamo uscito a chi è stato estratto non voglio che succeda questo quindi per quanto riguarda questi premiati io già ho verificato che c'è stato il commento che c'è stato il like c'è stata l'iscrizione e in più hanno messo anche la cosa su instagram quindi il follow su instagram ragazzi io vi prego di follow anche voi e quando mi mettete il follow per follow ditemi io sono tizio di youtube se cambiate il nome se non cambiate se è uguale ovviamente non c'è neanche di bisogno vediamo il secondo classificato ragazzi sono emozionatissimo perché questo è il mio primo giveaway spero che fate tutto bene allora il secondo è the players the players ti sei aggiudicato il kit da scuola di big heroes x contattami su instagram e adesso passiamo passiamo si passiamo al primo classificato ragazzi vi ricordo che il primo classificato vincerà un gumi slime nuovo di zecca sceglierà lui o lei il colore quindi il primo classificato è world of rebecca quindi world of rebecca se l'ho detto bene speriamo di sì hai vinto tu il gumi slime quindi contattami su instagram sempre e fammi sapere che colore vuoi se non li sai vai a cercare su internet comunque ci sono di tutti i colori ci sono oro c'è argento c'è fluo c'è trasparente c'è quei glitter fammi sapere dammi almeno due scelte perché se l'edicolante non dovesse avere il primo ti prenderò il secondo e fammi sapere ovviamente tutto per riceverlo adesso ovviamente qualcuno si sarà dispiaciuto perché non ha vinto ragazzi non vi preoccupate come ho detto all'inizio e come ho scritto nel titolo ora ci sarà un nuovo giveaway che cosa vincerete e cosa sarà in palio come premio bene vi faccio vedere subito che cos'è è un funko pop o fango pop porta chiave quindi keychain di spider man ragazzi per me è molto migliore anche dello schifidol a mio avviso però come sempre ragazzi io vi invito lo mettiamo qua si vede forse un pochino meglio così mettiamolo qua ragazzi io vi invito per essere una cosa importantissima di fare come lo scorso giveaway quindi lasciare like ovviamente se volete giusto se volete partecipare non è un obbligo lasciare like commentare e iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti condividere il video perché più lo condividete più ovviamente ci sono possibilità di tra virgolette di vincere ma la cosa importantissima e questa è quella più importante di tutti iscrivervi al canale instagram e dimmi chi siete ragazzi io non darò mai un premio a un ragazzo o una ragazza che non è iscritta su instagram e che non mi ha fatto sapere il suo nome su youtube perché non voglio sbagliare a dare il premio voglio essere una persona onesta nel senso che se tu hai vinto il premio tu lo devi ricevere non deve essere un altro perché ci sono stati tantissimi fake account account fake quindi non voglio sbagliare quindi ragazzi vi ringrazio per la visione di questo video partecipate in tanti al giveaway e un saluto lofu dal vostro fra 89 dal vostro lofu di fiducia e ci vediamo al prossimo video e al prossimo giveaway che sarà ormai l'anno prossimo ciao ragazzi mi raccomando partecipate con like commento condivisione e iscrizione a instagram importantissima ciao ciao ciao